di Milano, per circostanze mai sufficientemente chiarite. La morte avviene durante un interrogatorio sulla strage di Piazza Fontana, interrogatorio a cui Pinelli è sottoposto dalla squadra del commissario Luigi Calabresi. E l'ufficio del commissario della politica è nel seminterrato! Non potrai più buttarli giù, devi tirarli in alto! 19 anni fa, la tragedia che cambiò l'Italia, aprendo la fase della strategia della tensione. La bomba di Piazza Fontana a Milano. La pista anarchica. L'interrogatorio da parte del commissario Calabresi del ferroviere Giuseppe Pinelli, morto subito dopo in circostanze mai chiarite ufficialmente, cadendo nel cortile della Questura. Nelle stanze dell'ufficio politico della Questura, c'è un fermato trattenuto illegalmente. Il suo nome è Giuseppe Pinelli. Intanto ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in Questura dove stava molto bene. E poi ho chiesto se... E mi hanno detto che mi avrebbero mandato qualcuno a ritirare il libretto. Con chi ha parlato? Col commissario Calabresi. Sono venuti due giornalisti, mi hanno detto che mio marito è caduto da una finestra della Questura, perché lei non mi ha telefonato. Ma sa signora, abbiamo molto da fare. La Questura presentò ai giornalisti quella notte la morte di Pino come un atto di autoaccusa degli anarchici. Per quello abbiamo correlato a Questore. E in un secondo tempo abbiamo fatto la denuncia per omicidio volontario. Noi sappiamo che quella vicenda giudiziaria sostanzialmente non si è mai conclusa, perché dopo molti, molti anni fu archiviata con un verdetto di dubbio tutta la vicenda, vero? Nel 75 l'istruttorio d'Ambrosio fu archiviata con plausibile disgrazia. Plausibile disgrazia? Sì. Cioè non c'erano... Si escludeva il suicidio, si escludeva l'omicidio, era una plausibile disgrazia. Ma perché lei aveva la certezza che Pino non poteva averci avuto a che fare con l'attentato? Certo, poi dopo si dimostrò che Pino era assolutamente strano, innocente. Dopo tutti quanti dissero che era una bravissima persona. Ma in quel momento, perché lei non ebbe dei dubbi politici, diciamo? Molto probabilmente perché lo conoscevo bene, perché la casa era piccola, perché io sapevo tutti i fatti di tutti, quelli che venivano in casa nostra. Pino era un grande anarchico. Sì. Cos'era l'anarchia per lui? Beh, era un gran sogno di bellezza. Un'utopia, si direbbe. Il giorno dell'uccisione di Calabrese? Sì. Cosa provava? In momenti svengo, quindi, sa... Ma... Praticamente come se fosse finito tutto. Perché io avevo molte speranze su questo processo, perché dai processi qualcosa salta sempre fuori. Importa che vengono condannati o meno, però qualche cosa salta sempre fuori. E avevo veramente molte, molte speranze. E quindi il fatto che avessero ucciso il commissario a Calabrese? Ho sentito proprio come la fine del processo effettivamente è stato così. Quindi la fine della possibilità di arrivare alla verità... Alla verità. ...sulla morte di suo marito. Sì. L'inchiesta giudiziaria sulla morte di Pinelli è contorta. Il processo, intentato dal commissario Calabresi al quotidiano Lotta Continua e a Pio Baldelli, che l'ha accusato di essere responsabile della morte, è finito dopo sei anni con la condanna di Baldelli. E l'istruttoria del giudice D'Ambrosio si è chiusa con una sentenza che esclude omicidio e suicidio e parla soltanto di malore. Ma non c'è stato un esoriente processo. Il caso dell'anarchico Pinelli resta affidato, come il caso Sacco e Vanzetti, non più alla giustizia, ma alla storia.